Cari amici di MilleUnaVventure, in questo video scopriremo come giocare un'avventura testuale con l'aiuto di ChatGPT. In pratica l'intelligenza artificiale sarà il Game Master che guiderà le nostre azioni all'interno di un mondo creato da degli autori in carne ed ossa. Sfruttiamo come abbiamo già visto qualche tempo fa, e qui sotto troverete i link ai vecchi video che avevo fatto registrato su questo argomento e sfrutteremo il lavoro degli ePaperAdventures che durante il mese di agosto avevano rilasciato dei nuovi giochi con questo sistema. Se andate sulla pagina degli ePaperAdventures su itch.io trovate tutti questi dati qui e praticamente troverete il link a questa pagina come sempre qui sotto in descrizione. Qui in lingua inglese vi spiegano un po' di cosa si tratta tutta questa roba e in fondo trovate una serie di giochi preconfezionati. Ovviamente seguendo il loro schema potete provare anche a creare avventure testuali che siano di vostra fattura. Noi proveremo Dungeon Ecos che è questo primo gioco. Avevamo visto forse The Thing tanto tempo fa. The Human Shadow 2 anche era di qualche tempo fa se non sbaglio ma probabilmente hanno anche aggiornato. Vedo qui altri giochi. Ce ne sono tantissimi. Anche uno a tema Alien. Se volete provare l'ebbrezza di muovervi assieme a Ripley sulla Sulaco inseguiti da un Alien qui potete provarci. Ci sono perciò tanti giochi già pronti. Ora se noi clicchiamo su questo primo gioco qui così vediamo come potete fare per giocare. Si apre un'ulteriore pagina e si va direttamente a scaricare che cosa. Ci sono due file. Innanzitutto vi spiega che Dungeon Ecos è un old school renaissance role playing game che si gioca con l'assistenza di chat GPT. Però scendendo vedete ci sono due file che hanno suffisso N. Sono in versione inglese. A noi interessano i due file in versione italiana. Uno è di istruzioni e l'altro invece è il file vero e proprio che vi consente di giocare. L'ultima versione vedo qui versione di otto giorni fa e l'altra invece le altre venti giorni fa. Quindi ci sono state delle correzioni. Quindi spero che sia giusta quella che ho scaricato io e andiamo a vedere come funziona. Qui dietro di me trovate le istruzioni. Che cosa dicono queste istruzioni? Che si può usare la versione di chat GPT 4 o 4 o mini. Ovviamente quella non mini è quella che funziona meglio. Spero che si possa usare anche la 3.5 perché non ho idea di che cosa ho io come accesso a chat GPT. In pratica dicono le istruzioni accedi a chat GPT e ci si accede con chat.openai.com e quindi dovremmo essere qui. Ecco io ho già inserito il mio account, ho già fatto il login e mi trovo questa schermata nera qua. Segui le istruzioni per effettuare il login, l'abbiamo già fatto. Una volta effettuato l'accesso copia il contenuto del file, l'altro file e incollalo come prompt. Chat GPT diventa ora un'avventura testuale. Leggi le istruzioni e gioca scrivendo i comandi di testo attraverso i prompt. Perciò qui vi spiega anche che potete scrivere cose anche molto complesse ed elaborate. Non solo prendi la spada ma sollevo la spada da terra cantando l'inno delle mie terre e la indosso con orgoglio mostrando la mia forza mentre sorrido a Elena. Quindi si possono scrivere anche dei prompt che le vere avventure testuali si possono scordare. Proviamo. Quindi devo andare a prendere questo file che contiene tutto il codice con cui l'avventura è scritta. ci sono tante regole vedo che sono ma spero che scrivi in italiano perché visto che è la versione italiana speriamo che scriva in italiano. Adesso non ho letto il codice è molto lungo molto elaborato è studiato apposta per poter trasformare chat GPT da una chat che risponde alle nostre domande trasformarlo in un game master. Come avevamo visto tanto tempo fa ma con evidentemente dei prompt molto più elaborati rispetto a quelli che abbiamo provato tempo fa. Vediamo spero che funzioni la mia versione è la mia versione di chat GPT non ho idea di che versione sia. Dice di fare l'upgrade chat ottieni chat GPT 4 proviamo se non dovesse funzionare bene è proprio perché il mio accesso a chat GPT non è adeguato. Allora qui è successo un po' di tutto andiamo a ingrandire un po' qui questo si può togliere o. Allora abbiamo inserito questo prompt vediamo che cosa c'è stato risposto ci dice che le 30 regole che seguirà non utilizza la generazione di risposte multiple ci dice tante cose personaggi possono morire in caso di gravi quindi qua ci spiega tutto quello tutte le regole che seguirà il nostro game master artificiale. Poi algoritmi vari vuoi giocare gli diciamo sì il buio avvolge tutto intorno a te l'aria è densa di umidità e l'odore di muffa è forte quasi soffocante sentite l'eco dei vostri passi risuonare contro le pareti di pietra mentre vi addentrate in questo antico e dimenticato dungeon. Baldrick con la sua spada sguainata guida il gruppo i muscoli tesi pronti a reagire a qualsiasi minaccia. Silas con la sua agilità e astuzia si muove silenzioso pronto a percepire ogni minimo segno di trappolo o pericolo. Erin la tua alleata elfica tiene il suo bastone stretto pronta a evocare la magia che scorre nelle sue vene. Di fronte a voi si apre un corridoio stretto e oscuro la torcia di Baldrick getta ombre danzanti sulle pareti rivelando scritte antiche rune che sembrano sussurrare segreti dimenticati. Bene vedete che cosa ha generato chat GPT se andiamo a vedere nel testo qui dietro non c'è traccia mi pare di tutto questo testo che è stato prodotto c'è traccia di tutte le regole che invece sono state suggerite e chieste a chat GPT. E allora visto che ci sono tutte queste giocheremo solo qualche passo poi andrete voi a continuare questa cosa andremo a vedere appunto se è valido come sistema come ci dicono nonostante il nostro accesso a chat GPT sia proprio il minimo quello gratuito. Allora leggiamo leggiamo le scritte e affrontiamo uno dei segreti che nascondono. Vediamo se questo prompt così generico produce qualcosa di sensato. In un'avventura testuale ci scordiamo di scrivere cose così generiche. Allora vediamo un po' ha scritto tutto sta scrivendo tantissimo. Allora andiamo a leggere. Erin si avvicina alle scritte la luce della torcia fa brillare le rune incise nella pietra i simboli sembrano antichi eccetera eccetera con la sua conoscenza arcana tenta di decifrarle e Silas e restano allerta. Vediamo come va il tentativo di Erin. Erin 5 event 7. C'è stato un lancio di dadi evidentemente quindi simula anche il diciamo la casualità il nostro dungeon master cioè praticamente si pensa lui che dadi ha lanciato. Erin fisse intensamente le rune ma i simboli sono troppo antichi. Le rune cominciano a brillare un potere oscuro si risveglia. Sentiamo un rumore lontano un frucio come se qualcosa si stesse muovendo nel buio del dungeon avvicinandosi lentamente. Le rune invece di rivelare un segreto utile hanno risvegliato qualcosa di pericoloso e qualcosa di sinistro ci sta per raggiungere. Qui dice rispetto tutte le regole 29 descrizione conseguenza negativa quindi sta giustificando quello che ha proposto almeno così mi sembra di capire in questa in questa fase che probabilmente di debug. Allora cosa succede? Si sta avvicinando qualcosa. Allora noi scriviamo per esempio attendiamo con trepidazione l'avvicinarsi del pericolo affilando le armi. Vediamo che succede in questa attesa. Vi preparate al peggio consapevoli che ciò che si avvicina potrebbe essere una minaccia mortale. Baldrick affila la lama, Silas controlla le sue daghe, Erin nella sua aura magica sussurra antiche parole preparandosi a scatenare il potere degli elementi. L'oscurità sembra farsi più densa mentre il rumore si avvicina. L'attesa è snervante quindi stiamo attendendo. Poi Baldrick 7, event 11. Mentre Baldrick finisce di affilare la spada un improvviso scriccolio si fa sentire sul pavimento. Un pannello segreto si apre lentamente rivelando una stretta scala che scende verso un livello ancora più profondo. L'aria che sale da lì è fredda, gelida. Il pericolo è vicino ma ora avete anche una nuova via d'uscita o forse una via verso un pericolo più grande. Bene, in pratica abbiamo la scaletta che come tutti i dungeon porta a un livello successivo che è ancora più pericoloso del precedente. Allora facciamo così, scendiamo la scaletta e chiudiamo. Cos'era che cos'è che si è aperto qui? L'oscurità, scricchiolio, un pannello segreto e chiudiamo dietro di noi il pannello segreto. Mentre Baldrick dice, due punti aperte virgolette, vi abbiamo gabbati. riferito al pericolo incombente, ti abbiamo gabbato. Vediamo che succede, come continua questa storia, il nostro dungeon master artificiale avrà pronta per noi nuove insidie. Ti abbiamo gabbato, l'ha utilizzato, l'ha fatto esclamare a Baldrick. Ecco, andiamo a leggere. Decidete di scendere la stretta scala sapendo che qualunque cosa si stia avvicinando è meglio lasciarla alle spalle. Baldrick guida il gruppo, la scala scricchiola, appena siamo tutti giù. Silas tira una leva nascosta e il pannello segreto si chiude. Quindi il pericolo incombente è intrappolato al piano superiore. Ti abbiamo gabbato, esclama Baldrick con un sorriso, mentre il suono di passi pesanti e il respiro affannoso del nemico rimangono soffocati dall'altra parte del pannello. Il pericolo sembra scongiurato. Siamo in una stanza fredda e buia, davanti a noi un lungo corridoio, c'è un odore di umidità e di qualcosa di vecchio, quasi marcio, silenzio opprimente. Allora facciamo un'ultima azione e poi potete provare voi, vedrete che ciò che verrà generato probabilmente sarà diverso da quello che vedete. se hanno introdotto un po' di rumore in questo testo. Visto che abbiamo scampato un pericolo, la nostra maga che si chiama Erin, a Erin evoca uno stuolo di minions che vi precedono lungo il corridoio per rivelare che pericoli nasconde. Andiamo avanti questi minions, vediamo un po' si capisce quello che Erin potrebbe fare. Erin si concentra, i suoi occhi brillano con un gesto del suo bastone. L'energia magica si sprigiona, da un crepitio di scintille ombre emergono una schiera di piccoli servitori magici, creature etere e fluttuanti, pronti a seguire il comando della loro padrona. Gli esseri si allineano e cominciano a fluttuare avanti lungo il corridoio, illuminando l'oscurità. Procedono esplorando ogni angolo e crepa del passaggio. Vediamo come va l'evocazione di Erin e cosa scoprono i minions. I minions eseguono il loro compito, a un tratto uno di loro si ferma, ha tirato da qualcosa e incastonato nel muro. Si avvicina rivelando una pietra levigata diversa dalle altre. C'è un piccolo compartimento segreto, tocca la pietra e scivola indietro rivelando un vano nascosto. C'è un antico amuleto circondato da rune protettive, un oggetto magico di grande potere, dimenticato da chi costruì questo luogo secoli fa. Erin lo sente, questo potere capisce che potrebbe essere di grande aiuto, ma sa anche che ogni oggetto magico nasconde i suoi rischi. E allora facciamo indossare l'amuleto a qualcuno e a chi lo facciamo? Baldrick, com'è che si chiama? Baldrick indossa l'amuleto. Facciamo un'azione semplice, vediamo che cosa si inventa, il nostro game master artificiale. L'oggetto sembra pulsare, con una smorfia di determinazione si decide a indossarlo, avvicina l'amuleto al collo e lo infila, sento un fremito, un'energia fredda lo attraversa, la pietra emette un lieve bagliore, sincronizzandosi col battito del suo cuore. Vediamo cosa succede a Baldrick dopo aver indossato l'amuleto. Una sensazione di potere lo invade, si sente forte, vigile, tuttavia un sussurro si insinua nella sua mente, una voce antica e gelida che promette potere ma al prezzo di qualcosa di prezioso, la sua stessa anima. Il potere è grande, tuttavia lui si sente influenzato da questa pietra, un po' come l'anello magico del Signore degli Anelli e un'oscura ombra appare improvvisamente alla fine del corridoio che sembra osservare ogni mossa, qualcosa di inaspettato e stato risvegliato. Che cosa fate ora? Vabbè, almeno scopriamo chi è questa figura. Aerin aizza i minions contro l'ombra oscura. Vediamo che succede aizzando i nostri minions contro l'ombra oscura. Non esita un istante con un gesto deciso del bastone, ordina i minions di attaccarla. Le creature si scagliano avanti. Come va l'attacco dei minions? Speriamo bene. Si avventano ma non appena la sfiorano scompaiono in un soffio di fumo nero. L'ombra si contorce nutrendosi delle energie magiche che Aerin aveva evocato e un sussurro malevolo si diffonde nel corridoio. Gli occhi di Baldrick brillano di un bagliore sinistro, l'amuleto pulsa più forte e la voce nella sua testa diventa più insistente chiedendo di essere ascoltata. La situazione si fa sempre più pericolosa. Allora Baldrick, ultima cosa che facciamo, lo prometto, si toglie l'amuleto e lo calpesta e lo colpisce cercando di distruggerlo. Tanto c'è sempre l'ombra nera che ha distrutto tutti i nostri minions. Peccato. Come vedete prende la storia, succedono cose che non ci aspettiamo e siamo invogliati a continuare. Allora Baldrick agisce, si strappa l'amuleto, solleva la spada e tenta di distruggerlo. Il metallo della lama si infrange contro l'amuleto e esplode in mille frammenti di luce. La voce nella sua testa si spegne e Baldrick è libero dall'influenza nefasta e abbiamo avuto un esito positivo direi. Il corridoio si calma, l'ombra vacilla come se avesse perso parte del suo potere ma resta ancora una minaccia anche se non imminente. L'amuleto è distrutto ma non siamo ancora sicuri. Cosa farete ora? Ebbene provate voi a continuare questa storia, probabilmente se la inizierete avrete altri nomi, altre situazioni e a seconda di quello che scriverete succederanno tante cose differenti. Davvero complimenti agli Paper Adventures per saper adattare ChatGPT ai loro scopi, cioè creare delle avventure testuali o meglio creare un Game Master che propone avventure testuali seguendo ben determinate regole. Davvero molto bravi. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video o in una prossima diretta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!